good morning che si direi proprio buonasera perché veramente buonasera chi qui sono le le 7 20 mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 25 2022 and it's tuesday in naples abbiamo avuto perché ormai veramente e tardi sono le 7 20 cioè adesso abbiamo 5 gradi celsius e quindi credo 45 46 farina mai prima abbiamo avuto diciamo tramite alla giornata 10 6 e 50 farina e comunque con 5 se adesso i semi insedetta è quella giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo infatti fa veramente freddo veramente veramente fed però invito sempre a vedere il mio video sulle pratiche sul freddo che ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche utilizzo io per non di vincerlo mi sto ripetendo sempre ma quanto perché impossibile ma quanto meno di combatterlo sì i pensieri del giorno non credo che li faccio perché non ho proprio tempo stato molto impegnato col caricamento del video di la canzone di david bowie i'm deranged ma appunto in realtà vi riporto tutto in descrizione così potete capire comunque i pensieri che ho avuto oggi purtroppo per un fatto di tempo non ce la faccio proprio ma leggete appunto la descrizione per appunto per le varie informazioni per questi pensieri io che ovviamente è in dei reggi del pensiero principale ma voi capirete anyway ovviamente non posso inutile che le mostro come può vedere dietro di me inutile che le mostro dietro alla finezza perché ormai è sera però però faccio vedere un frammento di qualche ora fa ma sì sì abbiamo avuto we had beautiful blue skies and golden sunshine e si all along the way bene così spero continuiamo con questo trend comunque li stiamo avendo per molti giorni a gennaio veramente l'abbiamo avuti per diversi giorni e quindi che dire say this so from the mythical window could declare the court e comunque non dico le cose con enfasi perché vero che l'abbiamo avuti ma è sera quindi a bene così and it's green roller shoot and finally from a mythical keyboard di amadi gix 640 ipg 625 ev and great day in old people follow the channel reports sto utilizzando un altro dispositivo perché purtroppo sono dei problemi ultimamente col cellulare causa memoria e devo cercare di risolverli ma comunque meglio di niente mi scuso anche per lo schermo del computer che appare gli occhiali ma mi perdonerete su e che ne ha detto di in oldis people and everyone to it's green roller come Grazie.